Cioè, dico, puoi aspettare un attimo? Il fan ti aspetta anche due ore Ok Chi si vuole fare il selfie col personaggio ti manda a fanculo e se ne va E mi va bene così, grazie Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale Oppure continuate a seguirci anche su Spotify dove volete, la cosa bella è che siamo sempre di più E questo vuol dire che queste chiacchierate insomma vi stanno appassionando Io per primo ne esco una persona immensamente ricca e anche onorata Perché poi succedono cose speciali anche come quella di oggi Io sono davvero felice perché, attenzione, andiamo subito al sodo, signore e signori Dal Basement, è passato, è qui, noi abbiamo Piero Pelù Grazie Attenzione, nuova sigla, possiamo già annunciarlo Ebbè è vero, va un po' a richiamare Il Basement era quello che, i primi di cui ho sentito parlare erano stati i Ramones Pensa a te, vedi che alla fine come tutti Perché ci allevano le sale prove nel Queens di New York, loro hanno iniziato nel 75 hanno creato la musica punk Pensate a che roba Quando il resto del mondo stava dietro al prog e alla psichedelia E loro lì hanno detto proviamo a fare questa cosa Wall of Sound e via E si sono incredibili, dei rivoluzionari incredibili Come potete capire, il livello qualitativo della chiacchierata di oggi è parecchio alto Io ti ringrazio un sacco, anche perché poi penso Grazie a te Allora, Piero di cose ne ha fatte e ne ha viste un sacco Quando arriva in un posto come... Non tutte raccontabili Non tutte raccontabili Non tutte raccontabili, probabilmente Però dico, quando vede magari anche una cosa come il basement questo, non quello dei Ramones Oppure, insomma, anche questo nuovo modo di comunicare, di raccontare cosa pensi Perché sai, io adesso ho iniziato anche Ciao ragazzi, benvenuti Cioè è un linguaggio che magari, insomma, quando hai iniziato la tua carriera non prevedevi forse Penso che c'è un futuro per la comunicazione libera Ecco Che è la cosa che più mi sta a cuore Come potevano essere le prime radio libere Sì è vero, c'è un link anche su quella Negli anni 70 Su quella cosa Frequenze indipendenti Che poi, dove si poteva parlare di quello che i mezzi ufficiali di comunicazione non volevano divulgare Chiaro Sì, a livello di informazione, quindi a livello sociale e politico, ma anche poi a livello musicale Sì, sì, infatti c'è un periodo, a me capita, non so mai a te, però io dico Tante volte ci sono delle epoche che non ho vissuto ma di cui ho comunque nostalgia Nel senso, ho detto che bello sarebbe stato vivere quel periodo magari delle radio private Ma te lo sei ricreato Sì, in modo chiaramente vero perché poi le cose un po' ritornano in qualche modo Ho visto il video del tuo nuovo singolo Ok, con Alborosi Insomma, leggevo anche i commenti e il commento medio era Legends, cioè due leggende che insieme si incontrano Di mondi anche un po' diversi ma con dei punti in comune Però ho visto il video che inizia su un campetto da basket e questa cosa mi ha emozionato Ho visto che sei un fan del basket Essendo molto appassionato In realtà quel video lo abbiamo girato una domenica mattina in una casa famiglia Che sta proprio di fronte al cimitero monumentale qui a Napoli Ah, a Milano Scusa, qui a Milano Sembrava Brooklyn la situazione Sì, in effetti era estremamente urbana Anche con palazzi grossi intorno che fanno un po' da cornice Ma mi è piaciuta l'idea di andare in un posto così Perché c'è bisogno di far conoscere agli altri delle realtà Che magari non ci risultano nemmeno possibili Cioè ragazze madri maltrattate, picchiate Con un bambino a carico che non sanno come fare E che per fortuna trovano queste realtà ben strutturate Che le possono aiutare ad avere un futuro Ecco, e non per forza finire nel fondo della nostra società Beh, questa cosa per te è sempre stata il veicolo Cioè non so come dire, la musica utilizzata per raccontare qualcosa Cioè nel senso, mi sembri uno degli artisti che più rappresenta questa cosa Nel senso che non ti sei mai trattenuto dal portare in musica un tuo pensiero O dare risalto a voce a realtà che magari non ce l'hanno quella voce Ma diciamo che Ne ho parlato anche nel romanzo che ho scritto Spacca l'infinito Ho avuto la fortuna di avere un nonno Che a 18 anni era finito nelle trincee della prima guerra mondiale Tra i ragazzi del 99 Quella generazione di ragazzi che erano l'ultima carne da cannone rimasta Alla fine della prima guerra mondiale E lui mi ha raccontato le storie che in nessun libro di storia potremmo conoscere Cioè il fatto di vivere sotto terra Con il fango Con i pidocchi Con i ratti dentro le trincee Una cosa che mi ha sempre colpito molto E che poi è venuta fuori tra l'altro durante la pandemia Perché poi nelle famiglie certe storie non si raccontano troppo volentieri Soprattutto quando sono molto toccanti Però durante la pandemia mia madre mi ha raccontato Che appunto il nonno Mario Suo padre Quando erano nelle trincee Lui stava sulla Marna Era stato mandato lassù Nella trincee insieme a lui c'era un ragazzo di Roma Tra gli altri appunto A questo ragazzo suonava l'ottavino Quelli che si usano anche nelle bande militari E in un momento di pausa tra i combattimenti Oppure un giorno di riposo Non so questi dettagli Questo ragazzo con l'ottavino Stava suonando dentro la trincea Per tutti gli altri compagni Figurati magari qualche motivetto Per cercare un po' di portare della leggerezza Per portare un po' di leggerezza Erano tutti un po' più rilassati in quel momento E la cosa che poi portò mio nonno A fumarsi quattro pacchetti di sigarette Fino a che non è morto di tumore e polmoni A 69 anni È stata oltre agli orrori che vedevano nel campo di battaglia Che a un certo punto Questo ragazzo che suonava l'ottavino Il suo cervello è esploso Perché un cecchino dall'altra parte gli aveva sparato in testa Quindi tu puoi immaginare che shock sia stato Per lui e per tutti gli altri suoi compagni Tanto che il povero nonno Mario Poi quando... Proprio nel momento in cui è morto Di fronte alle sue figlie ha detto Ora vado a raggiungere il mio amico Quanto un singolo episodio Dopo 50 anni Così impotente Lui nel momento di morte Perché questo ragazzo evidentemente Gli era morto tra le braccia Certo Una roba... Insomma Quindi capisci perché queste storie non raccontate Mi hanno sempre la pelle d'oca Una volta che la racconto Queste storie non raccontate Mi hanno fatto capire Che la realtà va ben oltre Quello che si legge sui libri O sui giornali O che si sente nelle cronache ufficiali Sono quelle micro storie Che in realtà poi costituiscono L'anima delle persone L'anima delle famiglie L'anima delle comunità Forse anche di un popolo Chissà quante altre storie Ad esempio ora staranno succedendo In Ucraina In Palestina In Sudan In Afghanistan In Libia Tutte le guerre che ci circondano Ora non è che voglio buttarla No no però era inevitabile Parlare nel senso che Però ecco Il fatto di andare in una casa famiglia A girare il video di una canzone Così solare Come è Musica Libera Per me è stata una bella conquista Perché abbiamo portato allegria C'erano tutti i bambini Della comunità Che ballavano Alla fine si canticchiavano la canzone Quindi è stato molto bello Tra l'altro Prozio di cose Di cose belle Comunque importanti Dicevo Ormai mattarock Mattarock È vero Mattarock Insomma Hai sempre dichiarato un amore Verso questa Una stima Diciamo Verso questa figura Insomma Diciamo Io Nascendo dal basement Del super underground Della musica Della cultura sotterranea Fiorentina in particolare Ma anche poi a Parigi Quando andavo Con i miei Con i corrispondenti della scuola Ho sempre avuto un occhio Un po' Distaccato Ecco Verso tutto quello che c'è Di istituzionale Però poi nella storia Figure come Pertini E come ultimamente Si sta Rivelando Rivelando E ritagliando Mattarella Quando Quando scattano Determinate Affinità Mi piace Mi piace Dire Senza Appunto Senza nessunissima Snuberia Ecco Ci sono anche Queste istituzioni Che credo Possano essere Lui è veramente Credo Si possa dire Il presidente di tutti Ecco Per fortuna Si nel senso Che in un mondo In cui siamo Costantemente divisi Da tutto Lui è rimasta L'unica figura Che in qualche modo Anche in momenti difficili Come negli ultimi anni Tutti hanno detto Dai meno male Che c'è C'è lui Che cerca di tenere uniti In qualche modo I pezzi Che è un po' Anche lo spirito Della canzone Scritta insieme ad Alborosi Che è appunto Musica Libera Dove Abbiamo fuso insieme Il reggae con il rock Nella versione discografica Un po' più reggae E nella versione live Un po' più rock Mi sono preso la mia rivincita Come si può sentire Anche dal concerto Dal concerto Nel primo maggio Nonostante che insomma Già esistano Dei precedenti Importantissimi Primo su tutti Probabilmente Black and Blue Un album Per me stupendo De Rolling Stones Del 76 Circa 77 al massimo Che loro andarono A registrare Completamente A Kingston Negli studi Giamalicani Sì Perché Keith Richards Era particolarmente Fan della musica reggae E poi Che so Appunto Mick Jagger E Peter Tosh Insieme Fecero una canzone E poi sono arrivati I Clash Con Sandinista Poi sono arrivate I Police A fine degli anni 70 Con il loro Regata De Blanc No? Quindi ci sono dei precedenti Estremamente felici Per la storia della musica E noi ci siamo inseriti A modo nostro Insomma Albo ha Una grandissima Un grandissimo talento musicale E vocale È stato veramente Per me illuminante Vederlo e sentirlo cantare in studio Ho mai sentito Una tecnica tale E speso anche Sempre delle belle parole Per lui Una cosa che mi ha colpito molto È come Tu lo abbia anche Definito Un cervello in fuga Diciamo Un talento in fuga Della musica Credi che questa cosa Riferita a lui Nel senso che Per poter fare la sua musica La sua arte È dovuto andare da un'altra parte Dove è stato riconosciuto Rispettato Ed è diventato internazionale È una cosa che succede spesso Secondo te Nel nostro paese Con la musica Conosco diversi musicisti Che sono andati Sono dovuti Andare all'estero Perché in Italia Non avevano futuro Non tutti si sono ritagliati Una figura internazionale Da star Come ha fatto Alborosi Ma questo non toglie Che tutti Siano degnissimi Di grandissimo rispetto Insomma io Non Non vivo Dell'ossessione Della medaglia d'oro Anzi Anzi Anche questo mi ha sempre colpito Cioè della competizione Sono per i posizionamenti Dal quarto in giù Sì Assolutamente Cioè Poi la società di oggi È super competitiva Molto più Insopportabilmente Ossessivamente competitiva E in questo Devo Purtroppo Includere un po' Tutta L'informazione Anche Generale Dove solamente Chi ha vinto la medaglia d'oro O comunque una medaglia È degno di essere intervistato Nelle trasmissioni più importanti Di essere osannato Eccetera Ma chi è arrivato quarto A un centesimo È come se non esistesse Come se il suo sforzo Di venti anni Fosse stato vanificato Che è una cosa Estremamente umiliante Per lo sport Ma anche per la musica Ad esempio Cioè Solamente chi sta nella top ten È degno È degno Di essere Nominato Incensato O intervistato Dalle più grandi Dai più grandi spazi Promozionali No Secondo me no Assolutamente no Anche perché poi dipende Di quali sono I parametri Che Caratterizzano quella top ten Cioè Di che cosa stiamo parlando Anche quello I parametri Delle top ten Sono sempre commerciali Non ci sono Questioni di contenuti O di anime O di soul O di O di stile Più o meno nuovo Rivoluzionario Cioè Lì si guardano i numeri È matematica pura E secondo te Quali sono invece Le caratteristiche Che andrebbero Guardate Soprattutto per una Per la musica Che è arte sostanzialmente Che è soggettiva E non oggettiva Ti faccio un esempio Sì Nel 77 Tra le tantissime band Punk Che vennero fuori In quel momento Di cui Pistols E i Clash E i Ramones Sono i grandi E i Damned E gli Stranglers Certo Mamma mia Poi tutti C'è questo C'è questo C'è quello Sì sì Infatti Band importantissime Ce n'era una Che non è stata Cacata mai Come si dice A Firenze Che si chiamavano Pensate che nome The Drones I Droni Ok Già allora Solo il nome della band Vale il culto E in copertina C'erano loro Quattro ragazzini Brufolosi Che fecero un album Pazzesco C'erano loro quattro Con un transgender In copertina Negli anni 70 Nel 77 78 Cazzo Super culto ragazzi Super culto Beh infatti io immagino C'era già C'era già il presente Di oggi Ma no Ma chi come te Ha visto anche quello E ha vissuto quello Come fa oggi A stupirsi Cioè che cos'è Che a te oggi Ti stupisce A volte a me Fa sorridere O comunque Capisco quando Si cresce Si cerca di creare Un'immagine Un qualcosa Però poi spesso e volentieri Rimanda delle cose Che sono già state fatte Quindi è difficile oggi C'è qualcosa Per te che magari Hai visto anche Con una certa passione Tante cose Che però Cioè che cosa Può colpirti oggi O al contrario Che cosa ti fa Cioè vedere queste situazioni In cui alcuni Fanno cose già fatte E che vengono incensate È un qualcosa Che ti tocca? Beh chiaramente Nell'ambito musicale Un po' tutto mi tocca Perché Chiaro Io adoro la musica È stata la mia compagna Principale di vita Da quando ero ragazzino Depresso Che Mi facevano fare la scuola Che non volevo Volevo fare la scuola d'arte Mi hanno mandato a fare Un classico Arretratissimo Come mentalità Quindi Ho vissuto Un'adolescenza di merda E la musica Mi ha salvato Veramente Quindi Figurati Se non sono attento A tutte le novità E cerco sempre Di trovare L'aspetto positivo Anche nelle cose Che mi sembrano Più Sentite Risentite Insomma C'è un po' Un appiattimento musicale Oggi Ma L'algoritmo Ha il suo Ha il suo ruolo Imprescindibile E' abbastanza devastante Tutto questo La pandemia Ha scatenato Ha scatenato Le piattaforme Il potere Delle piattaforme Io Sono Tranquillissimo Nel senso che Sono anche pronto A ricevere Un po' Questa sfida Per uno che Come me E' nato dal vinile E' nato dalla cantina E' nato dai Concertini Nei pub di merda Non ti conosce nessuno Una volta Si sono a Roma E ci portammo La macchina del fumo Perché c'era Che anno Faceva 83 Ok Stavamo facendo Uno spettacolo In teatro Si chiamava Eneide Con un gruppo Di teatro multimediale Cripton Di Firenze Che poi Insomma Ha portato Tanta fortuna Anche a noi E Il regista Giancarlo Cauteruccio Disse Ragazzi Se volete Vi posso prestare La macchina del fumo E la macchina Delle bollicine Ho detto Guarda Le bollicine Anche no Grazie Però Se ci vuoi prestare Il laser No Il laser Non posso Costa troppo Eh va bene Allora La macchina del fumo E ci siamo portati A Roma La macchina del fumo Sparammo il fumo Prima del concerto E in mezzo a questa Coltre Effettivamente Una cortina di fumo Che la prima volta Lo usavamo Cioè c'era il locale Praticamente Sembrava arrosto Esatto Più nebbia Oh ma Chi son lì Bu E l'urlo di battaglia Fu Una sega No E li abbiamo E li abbiamo Scorticati Vivi E che quel momento Devi dimostrare Che non stavi facendo Quella roba lì Quindi insomma Figurati Sono abituato A qualsiasi sfida Chiaro Certo la pandemia Ha scatenato Tutti gli adolescenti Sulle piattaforme Eccetera Scaricare qualsiasi cosa E quindi Quei numeri Sono quelli Che oggi Darebbero Comunque danno Il senso Del successo Delle cose Chiaro E quindi Bisogna fare conti Con questa roba qua E tu pensi Se ci fosse stato Questo meccanismo O comunque Come è interpretata La musica oggi Quando hai iniziato tu Quando hai iniziato Con l'Itfiba Come sarebbe andata Se non te lo sei mai chiesto Quando ho iniziato Con i Mugnions Ancora prima La band del liceo E poi con l'Itfiba Diciamo Lì in realtà Comunque le classifiche Esistevano Perché c'era Se andiamo a guardare Che cosa Vendeva in Italia Tra la fine degli anni 70 E i primi 80 C'è da farsi Accapponare la pelle Perché poi In realtà Le cose sono cicliche Esatto Quando avete iniziato Quando hai iniziato tu In particolare Guarda L'unica cosa Scusa se ti interrompo Perché ho dei flash È giusto L'unica cosa Che forse Era popolare Però era anche Intelligente Ganza Originale Che poi infatti Nel tempo È diventata mitica Un certo Un certo Battiato Ok Un tale Un certo Battiato Ancora Benato Finardi Quindi erano Quelle le cose Che avevi intorno Quando stavi iniziando Pfm Ancora Pfm Che erano le cose Quelle poche cose Della classifica Che noi ragazzi Comunque amanti del punk Di questa nuova rivoluzione Che dava a tutti La possibilità Di prendere un microfono Una chitarra E dire un po' Il cazzo Che ci pareva Nella forma Che ritenevamo Più opportuna Ci appassionavano Ecco Ma per il resto Era una roba Estremamente preoccupante Tu ti ricordi Il tuo primo live In assoluto? Certo Il primo live mio Lo feci l'otto marzo Ah vedi Proprio Ok abbiamo la data Cesta della donna 1980 Avevo appena compiuto Diciotto anni Perché era un anno avanti A scuola L'unica cosa buona Che hanno fatto i miei Con le scuole Di mandarmi a scuola Un anno prima Hai fatto la primina Ho fatto la primina L'ho pagata Vomitavo sempre Ci avevo Ci avevo una maestra Ci metteva un'ansia Avete l'esame Avete l'esame E che cazzo Questo esame Studio Le cose le so Ma mi devi mettere l'ansia E lì mi è sempre un po' rimasta Eh vedi Perché un po' ho vomitato Anche il giorno E la maturità Vedi Però lì ho tirato fuori Proprio il Ok Ok Lì mi sono proprio liberato E 8 marzo 1980 Circo 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 Arci Bencini Vicino a piazza Puccini A Firenze Dove c'è il teatro Puccini Mi fu detto che lì facevano suonare Chiunque Ho detto Sai che allora Vado Da domandare Senta io c'è un gruppo Barista Di questi un po' vecchi Un po' arcini Era lì che asciugava i bicchieri E fa A me Mi importa una sega Di che vuoi fare A me basta E dopo Vuoi rimettere tutto a posto Ma scusi Ma dove si suonò? Lì Ed era la sala Della tombola Ok Dico ma scusi Ma non c'è il palco E non c'è il palco Nella sala Della tombola Allora senta Io Il palco lo voglio Va bene? Me lo costruisco con le mie mani Unisco tutti i tavoli Li lego Faccio Ho detto A me mi importa una sega Basta che per le sette e mezza Sia tutto pronto Per la tombola E così fu E quello fu il primo live E così fu Beh comunque alla fine Anche salire sul palco È una sorta di esame Vacca boia Se lo è L'altra sera Il primo maggio Mi cagavo in mano Ancora davvero? La vivi così? Ma certo Ma stai scherzando Ma deve esserci l'ansia Beh è bella questa cosa Deve esserci l'ansia Se no E che vuoi fare? Una passeggiata Non ho capito Che sei a fare una scampagnata E fricchettona con gli amici Oh Devi andare lì E spaccare di brutto Certo E questo però è un Devi far star bene tutti È qualcosa che ti porti dietro Da tutte le esperienze Anche che hai fatto Una cosa che è successa Durante il primo maggio Se non sbaglio Se l'ho interpretata giusta C'era un certo punto In cui tu Forse non riuscivi a sentire bene Non riuscivi a accordare Ti sei messo Grande mestiere Ti sei messo vicino alla cassa Hai fatto tutto Tu Lo senti il fischio Che c'ho No mi sa Mi sa che lo senti tu Quello Molto forte Ho sentito? Ecco E l'amplificatore del Finans Vedi Perché non mi avevano aperto La chitarra nei monitor Ok Quindi non riuscivo a intonarmi Infatti ho iniziato Mamma mia Un disastro No però la porti Cioè nel senso L'esperienza E le tante cose Che hai fatto sul palco Ti portano anche a risolvere Cioè magari oggi invece Però vedi Io sono sempre molto Sono ipercritico Ne ho parlato anche Con il mio staff Ho detto Ho sbagliato Perché dovevo dire Alt Fermi tutti Scusa primo maggio Scusa pioggia Scusa matta Scusa Italia Ci fermiamo Mi aprite Ste cazzo Di chitarre Nelle cuffie Così mi posso intonare E si rincomincia E invece lì Vabbè però Conoscere la tenera Sei sul palco Come fai a fermarti Tu sei un ragazzo Ma la gente ti vuole bene Questa è una cosa bellissima Io immagino anche La chiacchierata Che stiamo facendo Per molti sarà Per me è anche Un regalo molto bello Perché Comunque rappresenti tanto Rappresenti La storia anche del rock Del nostro paese E tu come l'hai vissuta Tutto questo Cioè tu ti rendevi conto Strada facendo Di tutto quello che Stavate anche Facendo No io non mi ricordo di un cazzo Beh ok Ma veramente Non lo dico per Per liberarmi Di fardelli Di responsabilità Ma forse Incomincio un po' più ora Perché sei più grande A sentire un po' Di responsabilità Su quello che si dice Come si dice Forse Sì Ma Allora Diciamo Io Poi Finito il liceo Volevo fare il dumps Ma chiaramente Ho avuto Ma hanno fatto Terra bruciata Intorno Cosa va Bologna Firenze c'è tutto E poi avevo iniziato Effettivamente Già a suonare Quei Litfiba Quindi Avevo mollato I Mugnoz Che non erano Abbastanza professionali E avevo Trovato Questi Come funziona Come si trovano I Litfiba Cioè se tu lasci Una band Ragazzi Litfiba Li abbiamo Creati insieme C'era Un amico Tastierista Al quale avevo Sfasciato la casa Durante una festa punk Antonio Aiazzi Che mi fa Oh guarda So che Con i Mugnoz Hai smesso di suonare Io mi sto vedendo In una cantina Di Via dei Bardi Vicino a Pontevecchio Con degli altri Ci manca Assolutamente Qualcuno Che canti Perché Insomma Non c'è nessuna Vocalità Degna Di Interesse Ho detto Proviamo Andiamo a sentire Questi Tanto Li trovai Che stavano Così Improvvisando Qualche cosa Era tipo La seconda volta Che si incontravano Era L'inizio Dell'autunno E nel giro Di Due mesi Abbiamo messo in piedi Un piccolo Repertorio Qualche cover E un po' di pezzi Originali Tutto in stile Molto post punk Diciamo Ancora non proprio New Wave Nemmeno la Dark Che poi O la Ethno Wave Che poi abbiamo elaborato Meglio Con Desa Parisito 17 E E l'8 dicembre Facciamo il nostro Primo concerto Quindi Due mesi dopo Esatti Che bella sta cosa Che ti ricordi Le date E beh sai 8 dicembre Io poi in realtà La collego All'uccisione Di John Lennon Perché Cioè Ecco Vedi Faccio casino Il 6 suonammo Il nostro Primo concerto Io mi ridussi Ai minimi termini E mi svegliai L'8 Praticamente Con la notizia Che John Lennon Era stato ucciso Il giorno di quell'anno Yes Ah cavolo E cosa ha rappresentato Per te questa cosa Beh chiaramente È stato uno shock Però In quel momento storico Io dischi di John Lennon Non li ho quasi tutti Attenzione Ho adorato Ho adorato John Lennon E chiaramente Beatles Lì vedo il cofanetto Il Let it be Ho appena comprato Quello di revolver Sia su vinile Che su cd Quindi figurati Comunque c'è un rispetto Quanto amo i Beatles A vent'anni che aveva fatto La storia della musica Che faceva musica Che aveva fatto la storia Della musica John Lennon E quindi ci poteva stare Anche una flessione Creativa Ci mancherebbe Quindi Chiaramente la cosa Ci scioccò tutti Anche poi Per la modalità Insomma Con cui era successo Sì sì È una roba assurda Un fan Che Un pazzo Sì Cioè È una roba che Effettivamente Se ci pensi bene Solo in una società In una società Molto difficile Diciamo Usiamo un eufemismo Come quella americana Può succedere Tutto sommato Tra l'altro Questa cosa dei gruppi Succedeva anche voi Quando avete iniziato Che c'è sempre Anche oggi Non so Arriva un gruppo Arriva un cantante Anche nello sport C'è sempre l'accostamento Con qualcun altro Quando Siete arrivati voi Con Litfiba Eravate Insomma Qualcuno vi diceva Che eravate la versione Di qualcos'altro Qualcuno coglieva Delle cose Che però voi non riconoscevate Vi sentivate Diversi da tutti Al netto dell'orgoglio Naturalmente Di non voler mai Assomigliare a nessuno Dunque I primi tempi Ti posso dire Quali erano I nostri riferimenti musicali Perché è inutile Girarci intorno Naturalmente Tutta la scena punk Del 77 Londinese I Ramones Gli Stranglers Perché era una grande band Che avevano Dave Greenfield Alle tastiere E lui fu un po' L'anello di congiunzione Tra un Ray Manzarek Dei Doors E il punk Una band Incredibile Gli Stranglers Che non ha mai ricevuto Abbastanza Per quello che meriterebbe Ci abbiamo anche suonato Una volta Da supporto In Belgio E poi Incominciava anche un po' Tutta la New Wave Anche un po' I Police E poi appunto Stava cominciando La New Wave Quindi Che so About House Dark Wave Susan The Benches The Roots R-U-T-S The Roots Non so come si può pronunciare Per farlo capire meglio Ecco Questo era un po' L'ambito musicale Da cui ci ispiravamo I Clash Abbastanza Ma non troppo Però tu a quella musica In quel periodo Come ci arrivavi? Vinili Presi Portati Beh allora Allora A parte che c'era gente Che faceva In continuazione A parte indietro con Londra Tornava sempre piena Però Firenze ha avuto Tra le tante fortune Che ha avuto Firenze In quel periodo E che c'era E c'è tuttora Un negozio di dischi Che si chiama Contempo Che è diventata Anche poi Contempo Records Perché ha pubblicato Diaframma Anche qualcosa D'Elite Fiba I Asassin La versione nostra Del pezzo di Bowie E tanti altri gruppi Tipo i Pankoff Un'altra band Fiorentina Pazzesca Che non ho mai ricevuto Abbastanza Per quello che Realmente dava Un po' Sull'onda dei neon Quindi da Contempo Io Diciamo che Recuperavi Il 75% Della mia discografia Che ancora Conservo gelosamente Come tu conservi Sì Infatti sei L'altra cosa Che mi ha colpito Sei un grande collezionista Sì Che Inizia a diventare complicato Per certi aspetti Per certi aspetti È ganso Perché Certi dischi Libri Quali sono le cose A cui tieni Di più Che collezioni Ma In generale Non so se c'è un pezzo A cui sei particolarmente Affezionato La fregatura Di chi è portato Al collezionismo Come noi Sì Ma direi che ci siamo È che tipo Fai un viaggio In Marocco Vai nel deserto Ti prendi Un Un sasso In un posto Particolarmente figo Un sasso Che ha dei colori pazzeschi O un po' di sabbia Dal deserto Poi vai a un altro viaggio E ricapiti In un posto Dove c'è un altro deserto Con un altro colore Con delle altre rocce Dici Che fai Non lo prendi Guarda belle Poi mi chiamo Pietro In realtà Quindi le pietre Sono proprio il mio Robbe tue Anche robbe E quindi alla fine C'ho pure la collezione Di sabbioline Di vari colori E dove vieni tutto In casa O hai un tuo Un tuo spazio Sì No Le tengo in casa Però c'è qualcosa Che c'è una storia dietro Che ne so Musicale Che recupera Un qualcuno Particolare A cui sei affezionato Che ti ha lasciato Qualcosa di suo Dice Qualche musicista Sì Non lo so Ecco Una cosa che non Sono mai riuscito a fare Di andare a rompere I coglioni Agli artisti Che adoro Per dire Iggy Pop Che per me È stato Uno dei maestri Insieme a Dario Fo Gli annacci L'Inside Camp Bowie Mi immagino una cena Con questi personaggi Tutti insieme No io non ce la farei Nemmeno a presentarmi Perché poi sono emotivo E quindi Iggy Pop Ogni volta che ho potuto Incontrarlo E zingergli la mano Non ce l'ho fatta Davvero Neanche semplicemente L'ho lasciato in pace Solo l'ultima volta Che ha suonato a Firenze Per l'apertura Dell'hard rock Ha suonato in Piazza della Repubblica C'era uno Un suo chitarrista James Williamson Di un album Che si chiama Row Power Dove c'è dentro Due o tre pezzi Incredibili Della storia Della musica Prodotto da Bowie Suona di merda Ma è un disco pazzesco James Williamson Che ha scritto quei pezzi Insieme a Iggy A Londra Nel 72 73 Era tornato con lui A fare quel tour Dopo anni L'ho detto Ah ma Cosa hai fatto In tutti questi anni Ma io ho aperto Una Un'azienda Di computer Nella valle A Los Angeles Adesso sono miliardario Non mi prendo un cazzo E la musica Eppure suonava ancora Da paura Era un genio E lui è stato Molto molto carino Mi ha detto Dai dai Aspetta Aspetta qua Che stavano facendo Defluire tutti Sono stato lì Abbiamo parlato Di album mitici Tipo Kill City Di quando lui e Iggy Si trasferirono A Los Angeles Dopo che La prima formazione Degli Stuges Era scoppiata Tutti per problemi Di droghe Purtroppo Tra l'altro Tu prima hai citato I Ramones Che in realtà Hanno fatto da supporto A un vostro concerto Una volta Incredibilmente È bella sta cosa Incredibilmente Sì Nel 91 Ma come è successa Questa cosa Nel senso che Fu l'organizzatore Di La Spezia Perché suonammo Nello stadio Di La Spezia Che disse Vi va di suonare Insieme a Ramones Porca Ma me lo domandi Anche E certo che sì Però anche lì Ad esempio Mi incontrai Con Gioi Alto due metri Tutto Dinoccolato Poverino Con i suoi problemi Anche fisici E non riuscire ad andare Oltre un high Non riuscire Per emozione O perché Per emozione Per pensatezza E invece con te Come sono i tuoi fan Insomma Le persone che ti seguono Che ti ascoltano Dipende Cioè cosa ti dicono Non ci fai mai caso Diciamo che io Riesco a capire abbastanza Chi è un vero fan Ok E chi è lì Solo per farsi un selfie Col personaggio pubblico E non ci vuole tanto A capire Quali sono gli elementi Il tempo Ok Cioè Dico Puoi aspettare un attimo Il fan ti aspetta Anche due ore Ok Chi si vuole fare il selfie Col personaggio Ti manda a fanculo E se ne va E mi va bene Così Grazie Beh però No no È un buon parametro E poi vabbè Immagino Che ti ringrazino Credo anche Un po' Cioè Perché poi I veri fan Sono educatissimi Ti rispettano tantissimo Magari c'è qualcuno Un po' più entusiasta Alcuni immagino Siano anche cresciuti con te Quindi magari oggi Sono più tranquilli Però all'epoca Erano dei pazzi scatenati Non lo so Ma sì Poi insomma Comunque lo capisci Quando uno ti vuole bene Perché evidentemente Cioè è scattato Qualche cosa di importante Tra di noi Che non Che tu non puoi sapere Perché Però che in quel momento Percepisci Qual è la E che è semplicemente Umanità Chiaro E che arriva forte A tal proposito Qual è la canzone O il pezzo A cui tu sei più Insomma Che hai notato Che ha più effetto E ha avuto più effetto Al di là del successo O meno Cazzo Sei venuto apposta a pranzo In che senso E si era detto Popola Popola domanda Che non voglio sentirmi Era più per capire Secondo te Quella per cui Cantano di più Cioè che tu hai notato Che la gente Proprio impazzisce Abbiamo toccato E ho anche da solista Toccato Tantigenti generi Che Ho un pubblico Molto eterogeneo Chiaro Ho un pubblico Molto eterogeneo Da quelli più Iper rocchettari A quelli Anche che magari Che so Si appassionano alle ballate Più psichedeliche O a quelli A cui piacciono anche Le ballad Sentimentali Insomma Perché ne ho scritte Le canzoni d'amore Ma poi io prima Mi stavo Questi giorni Insomma Sapendo che venivi fuori Ho rifatto una full immersion Mi sono rivisto Anche tutti i video E Cioè questo tuo stile Questa tua personalità Che hai sempre Avuto forte L'hai proprio sempre avuto Cioè tu Anche questo modo di cantare Che è diventato il tuo Che è un po' il tuo tormentone Che ti accompagna È nato con te No È nato da una cordite Violentissima Che ho avuto Ah Dove ho rischiato Veramente Il polipo in gola Dunque Nell'85 Quell'Itfiba Era scattata Una molla in Francia Da dove già suonavamo Da due anni Perché mi ero impuntato Che bisognava andare A suonare all'estero Più che stare a Firenze A fare Le belle statuine E la Sony francese Nel 1985 Ci vide In un concerto Che si chiamava La Nuit du Rock Mediterranea Tipo A Toulouse Nel palasport di Toulouse E ci vide E rimasero incantati E dissero Come si chiama il vostro album Appena pubblicato Desaparecido Lo pubblichiamo in Francia E pubblicarono Cazzo Il nostro disco Che c'eravamo autoprodotti Con l'etichetta Che avevo messo insieme Ad altri due soci Perché nessuno Ci cagava in Italia Nessuno ci voleva E quindi da lì È partito Il grandissimo Il TGV D'Elite Fibas In Francia Capito Questo perché Ci avete creduto voi Quando gli altri Non ci credevano Ci ho creduto In particolare io Mi sono fatto molto carico Di questa cosa Che ha funzionato tanto E che E che Poi io Molto legato Alla cultura francese Perché mia mamma Si stava per laureare In letteratura francese Poi non ho capito Perché Non si è laureato Però Quando eravamo piccini Ci portò A Parigi E scoprì Black Sabbath Ok Capisci perché Ah che trovo Cioè colleghi Poi viaggi Sempre a qualche cosa Sì 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 E io quel disco lì Paranoid Cioè Però lì Sta sull'altare Stare sul palco No Come stai tu Come ti muovi tu Come canti tu È un qualcosa Scusa Ti finisco la storia Ecco perché poi Io mi perdono Nei tuoi racconti Quindi proprio Possiamo andare avanti Cioè c'ho il cervello Fuga Quindi nell'85 Pubblicarono Desapparecidò In Francia E facciamo una tournée Tipo di 80 date In club Minuscoli Con 150 persone Tutte stipate A vedere Questi Mezzi fenomeni italiani Con il cantante Che parlava In francese Per cui Anche se Cantavo in italiano Però Tutto il pubblico Capiva Quindi era ganza Questa cosa I locali Ti dico Come il vostro Basement Il palco In questo angolo Qua In quegli anni Si fumava Come pazzi Poi i francesi Sono stati Tra gli ultimi A smettere Di fumare Dentro i locali Credo Gli ultimi Siano rimasti I greci Tutto oggi Mi dicono Gli amici E quindi Tu immaginati Una tournée Di appunto 50 date In 60 giorni Che stress vocale Perché poi C'erano dei monitor Di merda Ringo Che picchiava Come un disgraziato Gigo ci dava Dentro Col marcia Gianni Bah Bah Anche lui Col basso Che era una montagna Di suono E quindi Io lancio A quel punto lì Le corde Vocali Ho rischiato Di perderle E sono andato In un posto Dove A Firenze Che si chiama CRO Centro di Riabilitazione Ortofonica E dove Per la prima volta Ho usato Un computer In vita mia E tramite Delle 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 onde Disegnate Sullo schermo Mi dicevano Di emettere Determinati suoni Tipo C'era Metti Una siglosoide Così Questo è rappresentato Con questa cosa qua Io lo facevo in modo sbagliato Per cui l'onda che io emettevo Non si sovrapponeva A quella giusta Quindi io Visualizzando La giusta emissione Ho elaborato Un po' Il mio stile Infatti la mia voce Tra i primissimi dischi Fino a Da Separisidio E da 17 Re in poi Cambia E lì ho cominciato Un po' A lavorare Questo Cosa qui Questo cantare Un po' In maschera Diciamo Tra virgolette Che mi dava Più risonanti Nella testa E Era una sorta Anche di Autodifesa Rispetto Alla massa Di suono Che c'era Di necessità virtù Poi si dice È diventato poi Un elemento Super Caratterizzante L'altro momento Era quello Dal quale Siamo anche partiti Il fatto che Insomma Con la musica Cerchi sempre Di raccontare Qualcos'altro Uno dei ricordi Più impressi Che ho io Perché ero Più piccolino In quel periodo Però quando avete fatto Il mio nome Mai più In cui vi siete uniti Un gruppo Di artisti Più importanti In quel momento Nel paese Con In realtà Ce n'erano Tanti altri Più italiani Mi potevate chiamare A fare Una solina Davvero Poi ci sono stati Artisti Che avrebbero Voluto essere Inclusi Nel progetto Ma anche perché In realtà C'era un messaggio Così grosso E così importante Da raccontare Così urgente Per cui Come è nata Tutta quella situazione Dunque È nato Storicamente Da Da una cosa Bruttissima Di cui anche L'Italia Si rese Protagonista Cioè I bombardamenti Degli aerei Nato In Serbia Perché dunque Era finita la guerra In Bosnia Maledetti Anni 90 Diciamo La Dark side Degli anni 90 Che peraltro Sono stati Per la musica Pazzeschi Sono stati La guerra Dei Balcani E il disastro De Ruanda Certo Cose inenarrabili Io sono stato Due volte Ed è ancora oggi Quella roba De Ruanda Ed è ancora presente Uno di quegli argomenti Di cui non si può parlare E chi ha la mia età Che quindi era piccolo Magari in quel periodo Si ritrova A vivere ancora Dove peraltro vorrebbero Dirottare Tutti I migranti Che arrivano In Inghilterra Cioè siamo Veramente nella follia Più totale Di questo periodo Storico Quindi c'erano queste C'erano purtroppo Queste due Orribili realtà La guerra In Bosnia E in Croazia Insomma In quei confini Terribili Lì Stava Quasi finendo Però la Serbia Paese Slavo Con un fortissimo Nazionalismo Rivendicava Dei diritti Sul Kosovo Fatto sta Che La Serbia Stava invadendo Il Kosovo Scusate Niente E Lo stava facendo In maniera Molto violenta Siccome dietro La Serbia C'è sempre stata La Russia Non a caso Usano il cirillico Oppure loro Ok E tutt'oggi È una polveriera La Serbia Questo dobbiamo Non dobbiamo Mai dimenticarcelo Io sono studenti Scienze politiche Un po' Le seguo Si sente Si sa La Nato Decise Di dare Una lezione Alla Serbia E lo fece Non via Anche via terra Perché poi Spararono L'uranio Impoverito C'è tutta anche Quella questione Lì Dell'uranio Impoverito I soldati italiani Morti Per l'uranio Impoverito Utilizzato nella guerra In Kosovo In quegli anni Anche quella lì Una storia Tutta messa a tacere Il governo Noi facciamo Noi facciamo La facciamo sempre facile Siamo gli occidentali Siamo i più gansi di tutti Non è come nei film Di John Wayne Quindi in quel caso lì Succedeva tutto questo E vi siete sentiti Avete detto Facciamo Io sono obiettore di coscienza Dall'82 Ok Anche grazie ai racconti Di nonno Mario Delle trincee Quindi ripudio le armi Ripudio la guerra Un po' come la Costituzione E quindi Chiaramente non potevo che essere Totalmente contrario A quello che stava succedendo Ne parlai con Luciano Perché Ligabue Perché giocavamo Nella stessa squadra La Dinamo Rock Ok E iniziamo a scrivere questo pezzo Era appunto il 99 Io ero a fare l'ultimo Uno degli ultimi tour L'ultimo è stato veramente Nel 22 E venne fuori E venne fuori un po' Appunto il mio nome Mai più Poi Luciano mi disse Guarda Ho parlato anche con Lorenzo E Tirerei dentro pure lui E quindi ci siamo ritrovati in tre Beh cavolo Ma tutto questo È venuto fuori in 15 giorni Cacchio Ma un tempo brevissimo E quindi subito avete deciso Consapevoli anche che questa era una cosa Che avrebbe potuto portare Sia Nessuna consapevolezza Esatto L'abbiamo fatto proprio per sdegno Certo Per lo sdegno di quello che stava succedendo E della modalità in cui succedeva È chiaro L'Italia fa parte della Nato Bla 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 Sappiamo Ma lì tu ti ricordi come è stata recepita Però l'Italia non era stata mica attaccata Quindi Che motivo c'era dici Quale aggressione al nostro territorio c'era stata Nessuna Ma quando siete usciti con questo brano Con questa cosa Chiaramente erano altri tempi Anche un modo di comunicare diverso Eccetera Come era stata recepita Cioè avevate avuto anche delle contestazioni Ma senti Allora i social non c'erano Quindi Sicuramente qualcuno Storse il naso Anche qualche intellettuale di sinistra Molto vicino a D'Alema Ad esempio Ebbe modo di dirmi Che era un'operazione molto snob La cosa mi fece Imbestialire quantomeno Perché Cosa c'è di snob A fare una canzone contro la guerra Per raccogliere fondi E ne raccogliemmo tantissimi Perché Credo che sia uno dei singoli Che ha venduto di più Nella storia della musica italiana Sicuramente il singolo Che ha venduto di più Come fisico Sì Non mi ricordo quanti milioni E quanti miliardi di lire Abbiamo consegnato A Emergency di Gino Strada Che ho conosciuto in quell'occasione Grazie a Nico A Nico di Smemoranda Certo Agli amici di Smemoranda Aprendo tre ospedali da guerra Uno guarda caso in Sudan Dove tuttora è riesplosa la guerra Quella guerra lì Noi siamo andati a aiutare 24 anni fa Un altro insieme a Leone Che stava venendo fuori Da una guerra devastante C'erano centinaia di migliaia di persone Centinaia e migliaia di morti E centinaia di migliaia di persone Amputate con il macete Tipo Ruanda 2 E il terzo in Kurdistan Terzo ospedale da guerra Comunque è stato un risultato No è stato un risultato Tu vedi Lo rivendicherò per tutta la vita Quindi mi può venire L'intellettuale più figo Che la sinistra italiana Può aver concepito Negli ultimi 30 anni Gli faccio una risata in faccia In questo caso sono proprio fatti concreti Perché tra l'altro c'è anche un nome e un cognome Ah ok Era ben precisa questa indicazione Ma tu noti che oggi C'è ancora qualcuno che fa qualcosa del genere Cioè in tanti oggi no Cercano sempre di dire la loro Si impegnano in questo mondo Appunto social Succede un fatto Ognuno magari cerca di dire la sua opinione Anche quando non è magari richiesta Oppure insomma c'è questa voglia di Sposare in qualche modo Di essere attivisti Però quasi come se fosse un trend Però c'è qualcuno secondo te Che invece Oppure come vivi in generale questa cosa O se c'è qualcuno che secondo te è più concreto Ma parliamo dell'Italia Sì chiaro L'estero Non so esattamente come si stiano muovendo le cose I social hanno comunque esaltato l'ego C'è poco da fare E lo dico anche nella canzone nuova Il mio ego lo cerco in un pagliaio In musica libera Quindi Allora Vedo una bella coesione tra artisti Ad esempio della scena rap e trap Che collaborano molto tra di loro Fanno molti featuring Che è una cosa che io invidio molto Perché Ho sempre cercato Con gli altri miei colleghi Dell'ambito rock Di scrivere insieme Pubblicare insieme Fare cose insieme Ma è difficilissimo Nell'ambito del rock Siamo delle prime donne Insopportabili Lo dico L'ho già detto E lo ripeto Però poi alla fine Quando si è trattato di fare qualche progetto Con un valore sociale Qualche cosa siamo riusciti a fare Appunto con il mio nome mai più La musica per l'Aquila Emilia Per Italia 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 loves Emilia Ecco Quindi diciamo Qualcosa C'è stato negli anni Però ecco Questo ad esempio Non ha portato a grandi collaborazioni Discografiche Di studio O di scrittura Vere Nelle nuove generazioni Vedo grandi collaborazioni musicali Non ho capito bene Se sono anche rivolte Al sociale O al politico Ecco Da ignorante Dico che non ne vedo Però ignoro Per cui Magari sto dicendo Una stronzata enorme No magari Magari ci sono Ed è anche vero Che diciamo Ormai viviamo una realtà Che è talmente complessa Che Ci sarebbero talmente Tanti temi da affrontare Che Forse Può darsi che sia anche Spiazzate Diciamo Per le Ultime generazioni Affezionarsi A un tema E Arrivare Un po' A combatterlo Ma adesso ce ne sono Ma noi eravamo anche un po' figli Anche se spuri Comunque delle Grandi lotte Degli anni 70 80 E quelle cose ce le avevamo Nel sangue Chi Nasce oggi Invece O è nato subito Con la playstation In mano O comunque È stato Piazzato davanti Alla televisione A rincoglionirsi Perché I genitori Avevano altro A cui pensare Che non la sua formazione O sensibilizzazione Spero che invece Molti abbiano Ascoltato questa nostra Chiacchierata Io ti ringrazio tantissimo Perché è super Mega Preziosa Tatuaggine Te ne fai ancora O hai Messo in pausa No L'ultimo l'ho fatto Tra il fegato e la milza Ah ok Sì Ci ho scritto Litfiba Davvero Quanto tempo fa Tra il fegato e la milza Per attenzione Ok Perché dice che non sono abbastanza affezionato a Litfiba Io ce l'ho tra il fegato e la milza Voi dove ce li avete? Fa parte della tua storia E poi comunque Fa parte della mia storia Del mio DNA Della mia formazione musicale E umana Continuerò a suonare i pezzi Infatti perché adesso farai un sacco di live E lì tu puoi portare comunque pezzi di Litfiba Chiaramente posso suonare qualsiasi cosa E quindi diventa un live incredibile Sì sarà un live Infatti ho l'imbarazzo della scelta I banditos che mi accompagneranno Mi odiano abbastanza Perché ogni giorno che passa Ma lo sapete che potremmo anche suonare Diventa un concerto infinito Sono 44 pezzi da imparare Non ne possiamo dire E un sacco di gente non vede l'ora di ascoltare Io non vedo l'ora di incontrarvi Di saltare un po' E di vederti sul palco Perché poi lì Credo che tu dia veramente il meglio Oltre che a livello veramente Ci si prova Insomma una persona con cui è super bello Confrontarsi e chiacchierare Grazie davvero Piero È stato un onore gigante Ci sentiamo la prossima O ci vediamo Io sto sotto palco a saltare Che lì si salta sempre Grazie davvero Piero Pelù È passato dal basement Grazie A tutti Grazie a tutti Grazie.